Musica Sui giù Posso che l' бу Dopodichè il nostro Benvenuti a Murano, benvenuti nella vetri radutale, noi principalmente realizziamo l'alba d'aria in stile veneziano di gheri da più di tre generazioni, la materia principale per fare il vetro trasparente è la sabbia sinistra, quindi per dare una colorazione vengono impiegati vari osso degli minerali, durante il weekend noi imprimiamo la nostra principale controlla e facciamo queste piccole dimostrazioni per il pubblico. In questo momento andremo a vedere come viene soffiato il vetro, il maestro andrà a riferire un piccolo vasetto simile a questo qui, un gherbo tecnico chiamato Fazzoletto, mentre successivamente vedremo anche la tecnica solida, il maestro andrà a riferire un piccolo scultura di un cavalino. La temperatura all'interno del forno si aggirà attorno ai 1100 gradi centigradi, la materia principale per fare il vetro, la sabbia e la sinistra, i colori invece vengono dati, mescolando tra di loro vari osso degli minerali, esempio trovato il fenuro, osso di nave per il verde, selenio per il rosso, poi via via ogni minerale ha un colore differente al vetro. Quindi per l'anglico parlare, la normalità di produzione è la traduzione dell'escrizio, la spazio, l'escrizio e l'escrizio, e le fischio e le fischio. Ora ora vedremo la 2 tecniche di Bratolina, quindi per esempio la stoviglia, la stoviglia di scuola per il luogo, e ora il maestro per il defeczio di Antico, anche qui. So the master right now is going to make a little taste of the globe in Tecnica Electrica Naciona, so the making of a little scroll through our powers. We can start to say this glass is basically composed by a chemical sand, and the colors are given by a oxide mineral. So the main material to make the glass is a chemical sand, and the colors are given by a oxide mineral, for example, Coban for the blue, Tassio yellow, the temperature right now inside the oven is about 1100 Celsius. It's very very hot. In Spanish we have Spanish here. In French. I said. che insieme a la produzione di l'ostra, venissi il verde e il flac della generazione, e che la materia prima che può roberta il faro sarà stato giusto. Il coloro sono schienzo dalla città di minerano, e sono confronto di una composizione di ferro di ferro di ferro di coloro, con l'occupato del flore, con il magneto di noir, e poi, ogni minerano, un coloro di ferro. Ora, avete la possibilità di vedere due tecniche di pionacene e tradizioni aterrile, che sono le tecniche di soffraggio e la tecniche massiva. Ora, mettiamo la tecniche di soffraggio, e avremo a fare la tecniche di soffraggio, la tecniche di soffraggio e la tecniche di soffraggio e la tecniche di soffraggio. La temperatura all'interno del flore è di 1.000 sondaggi di soffraggio. C'è 3 gradi, ok? Come ci puoi vedere, appunto, qui tutto è completamente realizzato a mano. Vengono utilizzate alcun tipo di macchinario stampo, quello che ci differenzia da tutte le altre tecnologie di vetro. Abbiamo una lunga storia di tradizione, quasi tutto a 1.000 anni, e si mantiene, appunto, come lavoro tradizionale in viso, che viene tramandato da padri di figlio generazione e generazione. Quindi si comincia a lavorare da molto giovani, infatti la migliore scuola, per apprendere quest'anno ed esperienza fatta all'interno delle fornaci. Quindi si comincia a lavorare da molto giovani, e poi dopo variati anni di apprendistato se si è attraverso l'abilità si può diventare di maestro. Se non si è attraverso l'abilità si restano apprendisti per sempre. Oppure sono come me, che ci spiega. Bene? Quindi, come puoi vedere, tutto qui è stricolato hand-made. Non usiamo nessun tipo di polso, nessun tipo di macchie, non possiamo vedere un po' tanto. Ora che il pezzo è finito viene inserito all'interno di un altro forno, perché la temperatura è ancora molto calda, si parla di 180 gradi, quindi la temperatura deve essere abbassata in una maniera molto lente graduale per un giorno, per evitare lo shock termico che potrebbe rompere il pezzo nel giro di pochi minuti, se viene lasciato fuori di questo forno. Ora vedremo fare anche la piccola struttura del cavallino, dove inizia il mondo molto, poi, dopo alcuni anni di esperienza, se hai il talento e il paciente tu sarai un maestro. Se non, tu sarai un apprendizio per sempre. Tu sarai spiegare tutto il tutto. Ma non fare nulla. È molto più facile di spiegare, perché è molto facile, ma non fare nulla. Ora tirate fuori fotocamere, cellulari, facciamo video, foto, perché ora è il momento. Dopo, all'interno del negozio, non ci può, quindi, fate le ore. Sì. 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 È stato penalty. Grazie. Non ci permette di realizzare diverse culture. Prima abbiamo visto la tecnica soffiata, in questo caso ho avuto te. Da solito vengono utilizzati solo pizza e fornici. Now, please, don't touch the horse. Non tocchiamo il cavallino. Ok, molto caldo. Grazie. Grazie.